Sabato molto attivo sul fronte politico in città e provincia. Sposato alla Guizza inaugura il suo nuovo punto d'ascolto. Posizionato in via Guizza 40 si aggiunge agli altri già presistenti sul territorio incrementando ulteriormente la rete di confronto del candidato della Civica. In centro Padova presentazione della lista di Forza Italia per Massimo Bitonci e presentati in mattinata al Pedrocchi anche i primi candidati nelle file dei Cinque Stelle. In Piazza delle Erbe anche la raccolta firme organizzata sempre dai Cinque Stelle per la candidatura di Simone Borile. Raccolta firme anche ad abono terme per il candidato Boccardo che dopo la bufera sulla raccolta irregolare delle firme, tuttora in corso d'accertamento, da prova di integrità raccogliendo molti consensi presso il suo banchetto posizionato alla Lipair.